Università online e campus, 56 percorsi di laurea, lezioni, tutor ed esami online. Info all'800 410 300. Loro sono Anna e Paolo. Lui è sul solito e-commerce, lei è su trovaprezzi.it. Hanno gli stessi gusti, infatti scelgono lo stesso aspirapolvere, lo stesso robot da cucina, asciugatrice, smartwatch, videocamera, ma Anna è andata su Trova Prezzi, che ha confrontato per lei centinaia di offerte su tantissimi e-commerce ed è riuscita a risparmiare. Così ha preso anche il monopattino. Chi risparmia, trova prezzi. Caffè Gimoka, piacere mio. Cosa fai? Prepara un piatto con ambra corti riso, buono anche per il tuo futuro. Perché? Perché in una nuova confezione sostenibile, 100% riciclabile. È ambra il riso che non scuoce. Buonissimo! Corti riso, il grande classico italiano. Il momento di partire per l'Isola dei Famosi è quando vuoi tu con Mediaset Play. Potrai guardare le clip e tutte le puntate, partecipare con il televoto e scoprire tutto sui naufraghi con i contenuti inediti. In più, solo su Mediaset Play. Ti aspetta Isola Party, lo speciale web talk con Valeria Angione e Andrea Dianetti. Online il lunedì e il giovedì alle 20.45. Vole in Honduras, con Mediaset Play. Scarica subito l'app. Per me la Pasqua è un piacere scioglievole. Nocciole croccanti. Cioccolato finissimo. Un gesto tenero. La felicità è doppia quando la Pasqua è l'int. Uno dei due soffre di mal di schiena, ma oggi nessuno se ne accorgerà. Con la schiuma di cloreum anti-infiammatorio locale 3%. Si assorbe e agisce rapidamente. Schiuma di cloreum anti-infiammatorio locale. Stop al mal di schiena, non alle tue giornate. Oppure in cerotti di cloreum unidie. 24 ore di sollievo. Ti senti giù di tono? Riparti con i nuovi Kefir Plus di Milk con tre diverse funzioni. Azione antiossidante, aiuto al sistema immunitario e sostegno all'energia. Milk è fatto così. Giovanni Rana presenta Il nuovo spogliavelo mozzarella in duia. Lasciati sorprendere. Ace presenta Condominio Surace. In questo spot c'è uno specialista del pulito. Lo specialista è... La mamma. È ovvio. Perché si affida al nuovo Ace sgrassatore igienizzante. Che non solo sgrassa, ma rimuove germi e batteri. Nuovo Ace sgrassatore igienizzante. Lo specialista del pulito. Ace. L'igiene ogni giorno. Avete installato la connessione lenta. Ma la connessione funziona bene. L'abbiamo installata in 5 secondi. È lei che è lenta a cucinare. Passa a Linken. Con la promo compleanno speciale 20 anni, navighi senza linea fissa fino a 100 mega a soli 20 euro al mese per i primi 20 mesi. Ehi mamma, parliamoci a quattro occhi. Con Mumu la merenda è più completa, pratica, buona e divertente. Mumu è la merenda felice. Mumu, solo da cameo. Scopri tutti i prodotti Mumu. Perfetti anche per la merenda fuori casa. In una vita sempre più connessa, gli occhi vanno dallo schermo alla realtà in continuazione. Per mettere a fuoco velocemente in tutte le direzioni, c'è bisogno di lenti che diano una visione di qualità, anche nelle aree laterali. Da Zeiss arrivano le nuove lenti Smart Life, perché la tua vita sia sempre tutta a fuoco. Nuove lenti Smart Life. Chiedile al tuo ottico, Zeiss. Corri con internet fino a 2,5 gigabit. Senza vincoli e costi nascosti. A 25,95 euro al mese. Vieni in negozio o vai su fastweb.it. Fastweb, welcome to the next generation. Carbonara per tutti? Ce l'avete questa? Certamente. Che sto facendo? Anche noi abbiamo De Cecco. De Cecco nasce dal cuore dei migliori grani del mondo e dall'essiccazione lenta e a bassa temperatura. E la tenuta in cottura è perfetta. Rigorosamente. Di De Cecco ce n'è una sola. Mi piace chi dà valore al profumo di un fiore o al ronzio delle api. Mi piace chi la pensa come me. Come questa mela. Melinda, mi piace di più.